Quando uno si sente dire da dove vieni da Murano, ti dicono subito dall'isola del vetro. Una tradizione che celebra un'altra tradizione, quella del Natale. L'arte vetraria di Murano infatti produce originalissimi presepi e alberi di Natale, che sono il frutto di più di sette secoli di maestria tecnica ed eleganza, che fanno di questa realtà un'eccellenza unica al mondo. Ci sono mastri vetrai che fanno oggettistica prettamente natalizia. Tra i tantissimi prodotti che voi potete trovare a Murano, ci sono anche dei prodotti che sono attinenti al Natale. Un discorso a parte, lo facciamo per le palle di Natale, che non è mai stato un prodotto così artisticamente altissimo, però magari era fatto a Murano. Adesso purtroppo è un prodotto che non è mai stato tralasciato, perché è stato ampiamente contraffatto in Italia e fuori dall'Italia. Il vetro artistico di Murano è l'unica attività produttiva vera e propria che è rimasta nel centro storico di Venezia. Non va dimenticato che la sua storia, la sua cultura, lo porta a essere una pietra miliare, ma non solo di Venezia e del Veneto. Fa parte di quelle cosiddette eccellenze, che io invece nel caso di Murano direi addirittura unicità, che appunto danno lustro e danno prestigio a questo nostro paese.